ciao allora benvenuti nel video delle scoperte del mese dunque il primo prodotto che vi mostro e eccolo qua è questo qui questa è la crema latte corpo della bottega verde limone e agrumi con estratto di limoni di sicilia allora il prezzo che ho segnato da qualche parte 200 ml di prodotto ho trovato prezzo di listino 15 99 promozione 6 99 ulteriore promozione che il prezzo che ho pagato io 4 99 quindi occhio anche le cartoline periodiche che arrivano a casa le promozioni in negozio e tutto quanto allora cosa dirvi di questo prodotto è una crema che è leggera si assolve velocemente è bella fluida si stende facilmente ed è perfetta dopo la doccia e col fatto che assolve molto velocemente va bene anche da usare tutti i giorni ho questo ciuffo che non ne vuole sapere di stare al suo posto va bene anche da usare tutti i giorni perché è adatta anche a chi si vuole vestire subito dopo la doccia perché assorbe velocemente si stende bene ha un buon potere idratante è una crema valida ricordavo bene allora il profumo se lo annuso da qua sento l'agrume ma quando lo vado applicare sulla pelle non si sente più è un buon profumo ma non ricorda più l'agrume o il limone quindi se volete una crema che sa di limone non è questa perché finché l'annuso qui sa davvero di agrume tanto quindi è buona ma quando la vado applicare si perde tutto il profumo di limone e quindi valida adatta per tutti i giorni ma un po' una delusione perché pensavo fosse più profumata comunque sia e con lo sconto va bene ho dimenticato di mostrarvi da vicino che è questa che infatti dice che ha i limoni di sicilia andiamo avanti e questo è un prodotto che vi mostro è questo deodorante della DAV trash a gogo allora DAV invisible dry contestato su 100 colori e dice se è idratante di andare bene sui vestiti chiari e scuri 0% alcol durata 48 ore spero di no antitraspirante andiamo alla quantità 30 ml prezzo di listino 1,90 euro io l'ho pagato 1,25 euro allora è il classico roll che si gira che io ho completamente finito come volessi dimostrare allora il profumo mi piace mi piace davvero è fresco è delicato è delicato sulla pelle si stende bene unica cosa che è un pochino morbido quindi non lo consiglierei per l'estate torrida perché forse si scioglie ma comunque sia mi protegge a lungo questo qui mi protegge a lungo è valido come prodotto effettivamente non lascia macchie sui vestiti né chiari né scuri si applica facilmente si asciuga velocemente quindi in meno di un minuto così non rischiate vestendovi di andare a fare quelle estetiche chiazze o righe che proprio sono tremende non è affatto male io devo dirvi che per adesso io l'ho anche ricomprato quindi valido sicuramente da tenere doppio non gli davo tanto la DAV perché normalmente fa dei prodotti troppo cremosi ma questo sì mi piace ultima scoperta per questo mese e questa è stata davvero una scoperta perché vi parlo di questo doccia schiuma della Vidal questa è della linea Emotion Exotic Love ai fiori di tiaree questo qui aspettate che ve lo mostro eccolo allora come si vede l'ho completamente finito 250 ml di prodotto ho segnato il prezzo 1,29 euro allora intanto il profumo cioè è una cosa paradisiaca e non so come è fresco delicato ma nello stesso tempo deciso cioè è paradisiaco proprio dovete assolutamente annusarlo e oltretutto il profumo si diffonde nel bagno quando fate la doccia con l'acqua calda e resiste anche leggermente sulla pelle dopo la doccia quindi davvero e poi wow è profumatissimo mi piace fa una bella schiuma morbida che deterge bene però si sciacqua facilmente lascia la pelle idratata non la secca non la irrita mi è piaciuto cioè per il prezzo che ha è davvero un prodotto valido devo provarne altri perché assolutamente voglio provare tutta la linea ma questo qui ha un profumo che buonissimo è davvero buonissimo allora fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete trovate io come sempre spero di essere stata utile e vi ricordo intanto di seguirmi anche su instagram perché lì carico le first impression dei vari prodotti quindi quando ho poco poco prodotto da provare e quindi ed è solo una prima impressione perché magari lo uso uno o due volte lo pubblico su instagram o sul blog comunque seguitemi ovunque così non perdete nessuna recensione se vi è piaciuto questo video e vi è stato utile mettetemi un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così venite avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.